ero con demo l'ho visto davanti ho visto uno tagliato a metà e valerio che scappava via è stato jumper 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 ma sono jumper nella stanza ho fatto a posto tra quale corpo quello diremo quindi se siamo in tre per uscire ma perché possiamo votare ci siamo in questa roba perché uno vuole che era l'altro però il fatto che sta insieme ora ora ho fatto un errore ha chiuso la porta dentro con me si muore l'unico messo che sono stato distante dai perché c'era una genialità assurda ho visto davanti ma che già non so vanno davanti vabbè e niente sto al giam allora allora non è davanti almeno con nevo prima che vogliette ma quanti ricordi andamento Non è senso quest'angolo, ma che significa? Io sono ciecato, ma quello è peggio di me. Ah, porca puttana, porca. Nooo! Oh, ha l'ho chiuso. Dai Marco, non so quanto lo sa, ho due o tre due. Due mid. Questo diventa così. Unnamorato mio, cincino, bella. Ma io lo sai che mi cagavo f**to a vedere quegli bifo di di leoni? Ma io me li vedevo e avevo il coltello in mano. Però vedi, cosa ti insegni ai due fondaggi di Tori? Che stiamo... Reinhard, behind! One HP! Alla! 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 Dai, come si sale? Ah, stiamo scherzando, madonna! Noi, non c'è! Noi, non c'è! Guarda questo, guarda! Spara, spara! Lelle, spaa! Allora... Ok, è arrivato tutto! C'è... Ma sai perché fanno scherzo? Perché non si lavano il buco del c**o. Va bene, ma... Eh, oh! Ma scusami, eh! Per correttezza si lava il buco del c**o, eh! Ma sai che è schifo? Dopo che hanno cagato e vanno a letto con la fidanzata e devono fare sesso. Quella per sbaglio gli tocca il c**o. Cioè il mio buco del c**o non puzza mai, per dirti. Ma non è perché io mi faccio l'articcio. Perché comunque dopo cagato, una bella sciacquatella sotto le palle e il buco del c**o ci sta! Lo bella, vero! Sei se stessi ma a letto! Per effettuare il piccio che ti conto, ma... Hai bagnato mezzo a te! A s**t! Aspetta raga, mi son picciato sotto, penso. PENSO! Portami un fazzoletto! Yaa... Vada qua, cosa ho combinato! FAMONQUÈ Ma che tumore che jumper La 3 è di conto jumper Un cancretto